La Corte d'Assise di Catanzaro ha condannato a 25 anni di reclusione Sergio Giana, 38enne, imputato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere dell'ex compagna Loredana Scalone, di 51 anni, uccisa con 28 coltellate il 23 novembre del 2020 a Pietragrande di Staletti, nel Catanzarese. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giorno del delitto la vittima sarebbe andata ad un appuntamento con Giana, che si presentò all'incontro portando con sé un coltello da cucina. Dopo aver avuto con lei un rapporto sessuale, l'imputato avrebbe ucciso la donna e ne avrebbe occultato il cadavere tra gli scogli di Pietragrande. L'uomo sarebbe poi tornato più volte sul luogo del delitto per cercare di cancellarne le tracce. Il sostituto procuratore di Catanzaro, Anna Chiara Rele, che rappresentava la pubblica accusa, aveva chiesto che Giana venisse condannato all'ergastolo. La Corte, presieduta da Francesca Garofalo, ha escluso per l'imputato l'aggravante dei futili motivi.